Con il Consiglio Comunale di ieri il capogruppo della Lega, Oscar Aiello, avrebbe presentato una mozione sulla lotta alla droga attraverso l'assegnazione ad un consigliere comunale di maggioranza e un consigliere comunale di opposizione di una specifica delega nella lotta alla droga con l'incarico di promuovere e coordinare l'azione del Comune sulla materia e sull'istituzione di un osservatorio sul tema. Quello che è successo è davvero imbarazzante. La Lega come primo firmatario aveva presentato una mozione avente ad oggetto la lotta alla droga, quindi un tema trasversale che dovrebbe unire la politica anziché dividerla. Invece il Movimento 5 Stelle ha pensato bene di bocciare di fatto la mozione. La mozione aveva ad oggetto soltanto attribuire ad un consigliere di maggioranza e uno d'opposizione, la delega, per promuovere e coordinare tutte quelle attività che potrebbero servire a contrastare la droga coinvolgendo gli specialisti, quindi medici, esperti, psicologi e le forze armate. E poi l'altro obiettivo era quello di istituire un osservatorio comunale. Il Movimento 5 Stelle ha votato contrario, dividendo il Consiglio Comunale, portando avanti forse la loro ideologia, piuttosto che una politica irresponsabile. Io ho definito purtroppo i consiglieri del Movimento 5 Stelle politicamente irresponsabili, anche perché la mozione non aveva nessun costo per l'amministrazione comunale che ieri era favorevole. E' Marino Mancuso del Movimento 5 Stelle a spiegare il perché della scelta dell'astensione che ha comportato la bocciatura della mozione. Dice in una nota, constatiamo con amarezza l'indisponibilità del consigliere di opposizione autore della mozione in trattazione al Consiglio Comunale del 18 ottobre, di modificare la mozione in termini condivisi e condivisibili all'interno del Consiglio, in modo da arrivare ad una approvazione all'unanimità. La mozione, prosegue, vertieva su una materia delicata e di grande attualità, la prevenzione e la lotta alla droga. Il Movimento 5 Stelle ha mostrato piena disponibilità ad un confronto chiedendo una sospensione dei lavori, a cui il consigliere proponente si è sottratto dimostrando una totale chiusura. Prosegue ancora, riteniamo che i consiglieri non abbiano alcuna competenza per coordinare un'attività svolta dal CERT, dagli organi di polizia, dalla prefettura e dai servizi sociali. Sarebbe stato un istituto poco realizzabile in concreto, sottolinea, posto il diverso livello istituzionale dei soggetti, di cui si sarebbe voluto assumere il coordinamento. In una materia così complessa e delicata si correva il rischio di fare solo del protagonismo. Fa bene solo chi sa fare, conclude in questo modo la consigliera.